Eravamo con il racconto, cara Sonia, a questo. Mi diceva che non ci arriva la fine del mese con i 1.400. Invece, ad esempio, sua figlia non vive davanti allo specchio, non vive... Ah, io vorrei i vestiti più belli già a 11 anni, ah, la borsa... No, è abbastanza ancora tranquilla. Ehm... Brava, certo mi chiede le ultime fila, le ultime fila, le scarpe da ginnastica, anche lei vuole... Allora, me li dice sti anni? No. 4 è qualcosa? Cioè, iniziano con 4? No. Con 3? Con 3? Non si dice. Perché 4? No, pensavo che ne avesse 40, no? Non si dice, va bene. Non guastiamo tutto, non guastiamo tutto. Ehm, va bene. No, no, porti, cosa è? Caffè d'orzo? No, è il caffè d'orzo. Ah, perdone. Quante volte ha pianto, escluso il suo uomo, le sue storie d'amore? Tanto? Mai quanto questo. Allora, è divertente perché il suo ex non dà niente per la figlia, come mai? C'è sempre qualche scuso. Ah, il suo ex è l'equadoregno, non l'arabo. Sì, l'equadoregno, non dà niente. Che lavoro fa? Buratore, lavorava con la cooperativa, adesso mi preoccupato, non mi dà mai niente. Cioè, lui è inesistente. Quindi io 1.4 prendo e 1.4 muoio con 1.4. Quindi farai il networking e poi il web marketing? Vorrei, qualsiasi secondo lavoro mi capita, adesso le disposizioni che ho sono quelle lì, mi devo buttare nel network marketing per vedere se riesco come secondo lavoro. Ma invece qua no, recepzionista no, non fa già abbastanza ore. No, ma tanto ci sono i turni, poi io non riesco perché devo badare a mia figlia. Ma è sua figlia a casa da sola adesso? No, è dalla nonna. Dorme dalla nonna? No, è andata dalla nonna e poi va a scuola. La porta alla nonna. Quindi non vede l'ora che diventi grande. Cosa farà la figlia? Cosa suggerirà? Eh, non lo so. Quello che si sentirà. È brava a scuola? È una migliorata. Talve è migliorata. E se arrivasse uno ricco, un miliardario, se arrivasse il fratello del suo ex? Eh, non lo so. Non lo so perché anche farmi andare bene una persona per soldi non sono molto il tipo, non riesco. Invece no, chiudo qua questo, Sonia, poi la lascio. Come si vive, insomma, io sono disoccupato, tutto questo lo faccio con grande trasporto, ma le raccontavo in porta zero. Anche l'ironia, ti piacciono. Ma, però, insomma, poi non abbiamo figli. Ma però sul lungo periodo è lo corante. Poi con lei sono stato fortunato. E come si vive da, tra virgolette, povera? Cioè, quello che mi diceva, perché io non avevo capito bene, quindi non è una dieta. Lei magari finisce i soldi e deve mangiare di meno, in sostanza, se lo capisco bene. Mi devo adattare. Si, devo adattare. Non posso aprire il frigo e prendere i gamberoni. Certo, certo. Devo dire, non so, per tre giorni mi mangio la pasta. Oppure vado a comprare la bistecca al quotidiano, non mi compro 20 bistecche sul gelo. Cioè, mi adatto alla settimana. Ma quanto ha sul conto? O da parte? Un cacchio. Mila euro, cinquemila? Cinquecento? Cinquecento euro? Sì, tipo cinquecento euro. Ah, ma da sempre, quindi? No. Beh, si vive con un bel fardello addosso. Sì, un bel fardello. No, tra l'altro, vabbè, so, poi è assunto, no, almeno. Quindi è tranquillo. Quindi se si ammalasse, paga l'impio. No, vabbè, spero che non morirò così. Ah, certo, certo. Networking e? L'altra cosa? Network marketing. Network marketing e? Reiki, campani tibetani. Ah, no, no, ho lasciato apposto di sopra perché forse... Come c'è movimento, che rimuovo un po' a tenere parola, magari che non lo vede più. Vabbè, no, no, mi fido. E sa che comunque è brutto? Cioè, io vivo con un fardello, poi il fardello sono le mie... Cioè, perché? Vabbè, lasciamo stare, ma... Però faccio due calcoli e dico, beh, sono fortunato. Sono fortunato. Poi mi manca la tribuna vera, la visibilità vera, perché questa la guardano. Prima avevo 7 milioni di visualizzazioni. E comunque, le grandi testate, questo è... E... Però deve essere brutto vivere con... No? Poi la figlia, così... Ci vuole una grande forza d'animo. Poi bella come lei. Invece di comprarsi tutte le cose più belle del mondo. Di andare negli shop del... Cosa devo fare? No, no, certo. Cioè... Cioè, non sono una che si vende anche per queste cose. E quindi rimango nel mio piccolo. Ma quindi, ad esempio, vai i saldi e dà un'occhiata ai saldi, queste cose, sì. No, vabbè, se mi piace una cosa, tipo con la tredicesima, con la tredicesima... Invece il lavoro le piace? Voto al lavoro? Voto al lavoro... E voto alla vita. Vita DM o...? No, vabbè, alla fine se ho la salute sono fortunata. Perché ha il sole dentro, come quelle delle Reich. Sì, ha il sole dentro. Voto alla sua vita, fino adesso? 5 e mezzo? Sì, 5 e mezzo. Per gli amori un po' così, eh? 5 e mezzo. Spero di non morire così. E come mai fa questi TikTok? Perché... Ma la pagano, no? Non la pagano? O la pagano? Far TikTok? No, perché è da poco che l'ho aperto, non è tanto. Ah, è molto in voga, dice? Sì, sì, è molto... Ma è la più vecchia di quelli che usano TikTok e è una delle più giovani. Oh, adesso... Vedo? Ah, glielo parco io. Uova sode non ci sono. No, uova sode no. Adesso arriva il mio collega e fa le nuove strappazzate. E il bacon? Niente bacon. Ma il bacon è la mattina. Come la mattina, no? Solo la sera. Ma c'è il ristorante anche qua? Sì, sì. Io non ho fatto le nuove strappazzate per me. Per colpa mia? Sì. Ah, ecco. Va bene. Eh, va bene. Ci sono anche quelle di 50, 60... No, io conosco Snapchat. Snapchat lo conosco, quelli che si cancellano. Sì, c'era anche io. Eh? Quindi è molto avanti, ma fa col telefonino, sì. Sì, sono molto social. Grazie. Allora. Ciao. Grazie. Grazie. Grazie.